Dopo partita di Borgo Massano-Belfort, terminata con la vittoria degli ospiti per due reti a zero, una sconfitta che non ammette repliche, c'è qualcosa che non funziona il Borgo Massano e lo chiediamo al direttore generale Balestiere Enrico? Ma è qualcosa che non va, questa è una squadra esperta, è una squadra con dei giocatori che l'anno scorso hanno fatto la prima categoria e giustamente sanno stare in campo, se concedi qualche libertà la palla la giocano bene e vai in difficoltà come siamo andati perché due a zero è un risultato netto anche se noi abbiamo avuto molte occasioni e loro il primo gol l'hanno fatto su quasi l'unica, una delle poche azioni, non dico l'unica ma una delle poche azioni in attacco. A mio parere forse è mancato il gioco un po' più sulle fasce oggi, qualche giocatore forse non è ancora al top della forma? Non credo perché per correre corrono fino alla fine perciò i giocatori credo che sono allenati bene, il punto è che quando vai subito sotto 1 a zero recuperare anche se giochi in casa con delle squadre che hanno giocatori tipo schieratura che sa tenere bene la palla davanti non è facile insomma e poi abbiamo tentato di pareggiare, abbiamo fatto diverse azioni e non ci siamo riusciti. Qualcuno come Ricci ha perso la testa, può succedere queste cose sul 2 a zero? È davvero clamoroso. Ricci diciamo non in modo corretto mandava a quel paese un giocatore degli altri, l'arbitro ha interpretato che lo avesse detto lui e l'ha buttato fuori. Io dico che sul 2 a zero una squadra che giochi in casa, sul 2 a zero sotto l'arbitro più esperto può anche far finta di non aver sentito, anche se fosse stato nei suoi confronti. Dopo un bel avvio di campionato, due sconfitte consecutive, urge il correre ripare e ripartire subito? Certo, noi sempre, il nostro campionato deve essere sempre farlo in salita, farlo con l'umiltà che serve andare a giocare in certi campi e poi vediamo quello che viene. L'importante è dare del nostro massimo, del nostro meglio e dopo quello che viene lo faremo i conti alla fine, il totale dei punti. Il nostro cameraman ha messo sotto accusa le punte, hai da dire qualcosa su questo reparto o non si può mai accusare un reparto a mio avviso? Io le punte ho sempre saputo che fanno gol se sono ben servite, da sole 1-2 contro 4 difensori o 3 che so non è mai facile, io considero sempre il collettivo sia per la difesa che per l'attacco. Quindi un palestiere con le idee chiare come avete potuto sentire e speriamo che dal prossimo sabato alla prossima domenica le cose cambiano e anche il risultato diciamo. Speriamo, certo. Grazie.